Sedicesimo capitolo Dottrina vuota Due sono i modi di sostenere il buddismo. Uno è noto come Amisapuja, il sostegno tramite offerte materiali, ossia i quattro beni di prima necessità, cibo, abiti, ricovero e medicinali. Sono offerte materiali per il sangue dei monaci e delle monache e consente loro di vivere in un benessere ragionevole per la pratica del Dhamma. Ciò favorisce la diretta realizzazione dell'insegnamento del Buddha, che a sua volta apporta una continua prosperità alla religione buddista. Il buddismo può essere paragonato a un albero. Un albero ha delle radici, un tronco, dei rami, dei ramoscelli e delle foglie. Tutto, le foglie, i rami, incluso il tronco, dipendono dalle radici per l'assorbimento del nutrimento dal terreno. Proprio come l'albero dipende dalle radici per il sostentamento, le nostre azioni e le nostre parole sono come rami e foglie che dipendono dalla mente, la radice che assorbe il nutrimento poi inviato al tronco, ai rami e alle foglie. A loro volta queste fruttificano come parole e azioni. Quale che sia lo stato in cui la mente si trova, salutare o meno che tale stato possa essere, essa esprime le sue qualità esteriormente per mezzo delle nostre azioni e delle nostre parole. Perciò sostenere il buddismo mediante l'applicazione pratica dell'insegnamento è il tipo di sostegno più importante. Ad esempio, nella cerimonia per l'assunzione dei precetti nei giorni di osservanza lunare, l'insegnante descrive le azioni non salutari che dovrebbero essere evitate. Però, se durante questa cerimonia non riflettete sul significato dei precetti, sarà difficile progredire e non sarete in grado di realizzare la vera pratica. Il vero supporto del buddismo deve perciò essere attuato per mezzo della patipattipugia, l'offerta della pratica del Dhamma, coltivando vera moderazione, concentrazione e saggezza. Allora saprete cos'è il buddismo? Se non capite per mezzo della pratica, anche se imparate tutto il tipitaka, continuerete a non sapere. Ai tempi del Buddha c'era un monaco chiamato Tuccio Potila. Era colto davvero, profondamente versato nelle scritture e nei testi, così famoso da essere riverito ovunque e alle sue cure erano affidati diciotto monasteri. Quando la gente sentiva nominare Tuccio Potila, si sentiva in soggezione e la reverenza in cui era tenuta la sua padronanza degli insegnamenti era tale che nessuno osava mettere in questione nulla di ciò che lui esponeva. Tuccio Potila fu uno dei più colti discepoli del Buddha. Un giorno andò a porgere omaggio al Buddha. Mentre lo faceva, il Buddha disse, ah salve venerabile dottrina vuota. Proprio così. Conversarono per un po' fino a che non giunse il momento di andare e quando Tuccio Potila stava per accommiatarsi dal Buddha, il Buddha gli disse, oh stai per andare via venerabile dottrina vuota? Il Buddha disse solo queste cose. All'arrivo, ah salve venerabile dottrina vuota. Quando era giunto il momento di andare, oh stai per andare via venerabile dottrina vuota? Il Buddha non si dilungò, solo questo fu l'insegnamento che impartì. Tuccio Potila, maestro eminente, era perplesso. Perché il Buddha lo ha detto? Che voleva dire? Pensando e ripensando passò in rassegna tutto ciò che aveva imparato fino a che non capì. È vero, venerabile dottrina vuota, un monaco che studia ma non pratica. Quando guardò nel suo cuore vide che in realtà non era diverso dai laici. Aspirava le stesse cose alle quali aspiravano i laici, si dilettava con le stesse cose con cui i laici si dilettavano. Dentro di lui non vi era proprio alcun Samana, davvero non vi era alcuna profonda qualità in grado di insediarlo stabilmente sul nobile sentiero e di dargli una pace vera. Nota a piedipagina. Samana, un contemplativo, letteralmente chi abbandona gli obblighi convenzionali della vita sociale per un modo di vivere più in sintonia con la natura. Decise perciò di praticare. Per lui però non vi era un posto nel quale recarsi. Tutti i maestri dei dintorni erano suoi discepoli, nessuno avrebbe usato accoglierlo. Di solito quando le persone hanno a che fare con il loro maestro diventano timide e deferenti e per questo nessuno avrebbe usato diventare il suo insegnante. Infine egli andò a trovare un giovane novizio che era però un illuminato e gli chiese di praticare sotto la sua guida. Certo che puoi praticare con me ma solo se sei sincero. Se non sei sincero non ti accetterò, disse il novizio. Tuccio Potila si impegnò come discepolo del novizio. Il novizio gli disse di indossare le sue vesti al completo. Nei pressi vi era un fangoso acquitrino. Quando Tuccio Potila ebbe ordinatamente indossato tutte le sue vesti, alcune delle quali anche costose, il novizio disse bene, adesso corri a rotolarti in quel fangoso acquitrino. Fino a quando non ti dirò di fermarti, non fermarti. Se non ti dico di uscirne, non uscirne. Bene, corri. Tuccio Potila, vestito di tutto punto, si tuffò nell'acquitrino. Il novizio non gli chiese di fermarsi fino a quando non fu completamente ricoperto di fango. Infine gli disse ora puoi fermarti. Così egli si fermò. Bene, adesso vieni fuori. E lui ne venne fuori. Questo indicò con chiarezza al novizio che Tuccio Potila aveva rinunciato al suo orgoglio. Era pronto ad accogliere l'insegnamento. Siccome era un maestro molto famoso, se non fosse stato pronto a imparare non si sarebbe gettato nell'acquitrino in quel modo, ma lui lo fece. Il giovane novizio seppa allora che Tuccio Potila era sinceramente determinato a praticare. Quando Tuccio Potila uscì dall'acquitrino, il novizio gli impartì l'insegnamento. Gli insegnò a osservare gli oggetti dei sensi, a conoscere la mente e a conoscere gli oggetti dei sensi usando la similitudine dell'uomo che cattura una lucertola nascosta in un termitaio. Se il termitaio ha sei fori, come farà a catturarla? Dovrà sigillare cinque fori e lasciarne aperto solo uno. Poi dovrà limitarsi a osservare e attendere, sorvegliando quel foro. Quando la lucertola uscirà, potrà catturarla. La mente si osserva in questo modo. Chiudendo gli occhi, gli orecchi, il naso, la lingua e il corpo, resta solo la mente. Chiudere i sensi significa contenerli e calmarli, osservando solo la mente. La meditazione è come catturare la lucertola. Usiamo sati per osservare il respiro. Sati è la qualità del rammemorare, come quando chiedete a voi stessi che cosa sto facendo. Sampagiania è la consapevolezza che ora sto facendo così e così. Osserviamo il respiro che entra ed esce con sati e sampagiania. Nota a piedi pagina. Sampagiania, chiara comprensione, consapevolezza di sé, autorammemorazione, attenzione, consapevolezza, presenza mentale, comprensione profonda. Questa qualità del rammemorare è una cosa che sorge dalla pratica. Non può essere imparata dai libri. Significa conoscere le sensazioni che sorgono. La mente può essere relativamente inattiva per un po' ed ecco che sorge una sensazione. Sati lavora in connessione a queste sensazioni, rammemorandosene. C'è sati, il rammemorare che parlo, vado, siedo e così via. E poi c'è sampagiania, la consapevolezza che ora sto camminando, sto giacendo, sto sperimentando questo o quello stato d'animo. Con sati e con sampagiania possiamo conoscere le nostre menti nel momento presente e sapere come la mente reagisce alle impressioni sensoriali. Ciò che è consapevole degli oggetti sensoriali è detta mente. Gli oggetti dei sensi vagano dentro la mente. Ad esempio c'è un suono, come quello del trapano elettrico che sta qui. Esso entra attraverso l'orecchio e viaggia all'interno della mente, la quale riconosce che è il rumore di un trapano elettrico. Ciò che riconosce il suono è detta mente. Ora la mente che riconosce quel suono è piuttosto semplice. È solo la mente comune. Forse sorge in colui che prova del fastidio. Dobbiamo addestrare ulteriormente colui che riconosce, affinché divenga colui che conosce, in accordo con la verità, noto come buddho. Se non conosciamo con chiarezza in accordo con la verità, ecco che siamo infastiditi dai rumori della gente, degli automobili, dei trapani elettrici e così via. Questa è solo una mente ordinaria e non addestrata che, con fastidio, riconosce il suono. Conosce in accordo con le sue preferenze, non in accordo con la realtà. Dobbiamo addestrarla ulteriormente per conoscere mediante la visione profonda jnanadasana, con il potere della mente affinata, affinché conosca il suono semplicemente come suono. Nota a piedi pagina. jnanadasana, conoscenza e visione, anche all'interno delle quattro nobili verità. Se non ci attacchiamo al suono, non c'è fastidio. Il suono sorge e noi semplicemente lo notiamo. Sorge in conseguenza di condizioni. Non è un essere, un individuo, un sé, un noi o loro. È solo un suono e la mente lascia andare. Questo conoscere è chiamato buddho, quella conoscenza che è chiara e penetrante. Con questa conoscenza possiamo lasciare che un suono sia semplicemente un suono. Non ci disturba, a meno che non lo disturbiamo noi pensando non voglio sentire quel suono, è fastidioso. La sofferenza sorge a causa di questo pensiero. Proprio qui sta la causa della sofferenza, nel fatto che non conosciamo la verità al riguardo, che non abbiamo sviluppato buddho. Non siamo ancora liberi, non ci siamo ancora risvegliati, non siamo ancora consapevoli. Questa è la mente grezza, non addestrata. Questa mente non ci è molto utile. Per questa ragione il Buddha insegnò che questa mente deve essere addestrata e sviluppata. Dobbiamo potenziare la mente proprio come potenziamo il corpo, ma lo facciamo in modo differente. Per sviluppare il corpo dobbiamo allenarlo, correndo al mattino e alla sera e così via. Questo è allenare il corpo. Il risultato è che il corpo diventa più agile, più forte, il sistema respiratorio e il sistema nervoso diventano più efficienti. Per esercitare la mente non dobbiamo tenerla in movimento, ma indurla a fermarsi, indurla a riposare. Ad esempio, quando pratichiamo la meditazione, assumiamo come nostro fondamento un oggetto come l'inspirazione e l'espirazione. Questo diventa il centro della nostra attenzione e riflessione. Osserviamo il respiro. Osservare il respiro significa seguire il respiro con consapevolezza, notarne il ritmo, il suo andare e venire. Applichiamo la consapevolezza al respiro, seguendo la naturale ispirazione e l'espirazione e lasciando andare tutto il resto. Il risultato del rimanere con un solo oggetto di consapevolezza è che la nostra mente si riposa. Se lasciamo che la mente pensi a questo, a quello e a quell'altro ancora, gli oggetti di consapevolezza sono troppi. La mente non si unifica, non riesce a riposarsi. Dire che la mente si ferma significa che essa percepisce di essersi fermata, non va scappando di qui e di là. È come avere un coltello affilato. Se lo usiamo per tagliare di tutto indiscriminatamente, pietre, mattoni ed erba, il nostro coltello presto non sarà più tagliente. Dovremmo usarlo solo per tagliare le cose giuste. La nostra mente è la stessa cosa. Se lasciamo che la mente vaghi rincorrendo pensieri e sensazioni senza valore o inutili, essa si stanca e si indebolisce. Se la mente non ha energia, non sorgerà la saggezza, perché la mente priva di energia è la mente priva di samadhi. Se la mente non si ferma, non potete vedere con chiarezza gli oggetti dei sensi per quello che sono. La conoscenza che la mente è la mente e gli oggetti dei sensi sono solo gli oggetti dei sensi, è la radice dalla quale il buddismo è cresciuto e si è sviluppato. Questo è il cuore del buddismo. Dobbiamo coltivare questa mente, svilupparla, addestrarla alla calma e alla visione profonda. Addestriamo la mente a essere moderata e saggia, facendola affermare, consentendo la saggezza di sorgere, conoscendo la mente così com'è. Sapete come siamo noi esseri umani? Come facciamo le cose? Siamo proprio come dei bambini. Un bambino non sa nulla. Per un adulto che osserva il comportamento di un bambino, il modo in cui gioca saltando qua e là e le sue azioni non sembrano avere molto senso. La nostra mente, se non è addestrata, è come un bambino. Parliamo senza consapevolezza e agiamo senza saggezza. Possiamo andare in rovina o causare mali indicibili senza nemmeno saperlo. Un bimbo è ignorante, gioca come fanno i bambini. La nostra mente ignorante è la stessa cosa. Perciò dovremmo addestrare questa mente. Il Buddha ci insegnò ad addestrare la mente, a insegnare alla mente. Anche se sosteniamo il buddismo con i quattro beni di prima necessità, il nostro sostegno è ancora superficiale, raggiunge solo la corteccia o l'alburno dell'albero. Il vero sostegno al buddismo deve essere costruito per mezzo della pratica, in nessun altro modo, cioè addestrando le nostre azioni, le nostre parole e i nostri pensieri secondo gli insegnamenti. Questo è molto più fruttuoso. Se siamo retti e onesti, se siamo contenuti e saggi, la nostra pratica porterà prosperità. Non ci saranno le cause per dispetti e ostilità. Così ci insegna la nostra religione. Se prendiamo i precetti solo per tradizione, allora anche se la jang insegna la verità, la nostra pratica sarà manchevole. Potremmo anche essere capaci di studiare gli insegnamenti e di ripeterli, ma dobbiamo praticarli se vogliamo davvero capire. Se non sviluppiamo la pratica, ciò potrebbe essere d'ostacolo alla nostra comprensione profonda del buddismo per innumerevoli vite future. Non capiremo l'essenza della religione buddista. Per questa ragione la pratica è come una chiave, la chiave della meditazione. Abbiamo in mano la chiave giusta e non importa quanto saldamente sia chiusa la serratura. Se prendiamo la chiave e la giriamo, la serratura si apre. Se non abbiamo la chiave, non possiamo aprire la serratura. Non sapremo mai cosa c'è nel baule. Ci sono due tipi di conoscenza. Chi conosce il Dhamma non parla usando solo la memoria, dice la verità. La gente del mondo di solito parla con presunzione. Supponiamo ad esempio che ci siano due persone che non si vedono da molto tempo. Forse sono andate a vivere in provincia o in nazioni diverse per un po' e poi un giorno capita che si incontrino sul treno. Oh, che sorpresa! Stavo proprio pensando di cercarti. Forse non è vero. In realtà non avevano pensato affatto l'uno all'altro, ma lo dicono perché sono preda dell'entusiasmo. E così nasce una menzogna. Sì, è mentire per disattenzione. Questo è mentire senza saperlo. È una forma sottile di contaminazione e avviene molto spesso. Per quanto concerne la mente, Tucciopotila seguì le istruzioni del novizio. Inspirare, espirare, piena consapevolezza di ogni respiro, fino a che non vide il mentitore che stava dentro di lui, il mentire della sua stessa mente. Vide le contaminazioni man mano che affioravano, proprio come si vedrebbe la lucertola che esce dal termitaio. Le vide e appena sorgevano ebbe la percezione della loro vera natura. Notò come la mente inventava una cosa ora e qualcos'altro nel momento successivo. Pensare è Sankatadamma, un qualcosa che si crea o si inventa sulla base di condizioni che fungono da supporto. Nota a piedi pagina. Sankatadamma, fenomeno condizionato, realtà convenzionale, in contrapposizione con l'incondizionato Asankatadamma, ossia il Nibbana. Non è Asankatadamma l'incondizionato. La mente, ben addestrata di chi è dotato di perfetta consapevolezza, non architetta stati mentali. Questo tipo di mente penetra le nobili verità e trascende ogni necessità di dipendere da cose esteriori. Conoscere le nobili verità è conoscere la verità. La mente che prolifera cerca di sfuggire a queste verità dicendo questo è bene o questo è bello, ma se nella mente c'è Buddho, essa non può più ingannarci perché la conosciamo per quello che è. La mente non può più creare stati mentali illusori, perché vi è chiara consapevolezza del fatto che tutti gli stati mentali sono instabili, imperfetti e fonte di sofferenza per chi s'aggrappa a essi. Colui che conosce era sempre nella mente di Tuccio Potila. Ovunque egli andasse, osservò le varie creazioni e prolifrazioni della mente con comprensione. Vide in quanti modi la mente è menzognera. Afferrò l'essenza della pratica vedendo che questa mente menzognera è quel che bisogna osservare. Questo è ciò che ci conduce agli estremi della felicità e della sofferenza e ci induce a vorticare nel ciclo del samsara con il suo piacere e il suo dolore, il suo bene e il suo male. Tutto avviene a causa di questa mente menzognera. Tuccio Potila comprese la verità e afferrò l'essenza della pratica proprio come l'uomo che afferra la lucertola per la coda, vide la mente illusa mentre lavorava. Per noi è la stessa cosa. Solo la mente è importante. Questa è la ragione per cui abbiamo bisogno di addestrarla. Ora, se la mente è la mente, con che cosa l'addestreremo? Avendo ininterrottamente sati e sampagiania, saremo in grado di conoscere la mente. Colui che conosce sta un passo al di là della mente. È ciò che conosce lo stato della mente. La mente è la mente. Ciò che conosce la mente come semplicemente è colui che conosce. È al di sopra della mente. Colui che conosce è al di sopra della mente ed è perciò in grado di sorvegliarla, di insegnarle a conoscere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Alla fine tutto torna a questa mente che prolifera. Se la mente resta catturata dalle sue proliferazioni, non vi è consapevolezza e la pratica è infruttuosa. Dobbiamo perciò addestrare questa mente ad ascoltare il Dhamma, a coltivare Buddho, la chiara e radiosa consapevolezza, ciò che esiste al di sopra e al di là della mente ordinaria e che conosce tutto quello che succede al suo interno. Per questo meditiamo con la parola Buddho, per essere in grado di conoscere la mente oltre la mente. Osservate solo tutti i movimenti della mente, buoni o cattivi che siano, finché colui che conosce non comprende che la mente è semplicemente la mente, non un sé o una persona. Questo è chiamato cittanupassana, contemplazione della mente. Nota a piedi pagina. Cittanupassana, la contemplazione della mente, uno dei quattro fondamenti della consapevolezza esposti dettagliatamente nel ma satipattana suttanta, diga nikaya. Vedi il glossario alla voce satipattana. Vedendo in questo modo capiremo che la mente è transitoria, imperfetta e priva di un proprietario. La mente non ci appartiene. Riassumendo, la mente è ciò che riconosce gli oggetti dei sensi. Gli oggetti dei sensi sono oggetti dei sensi, distinti dalla mente. Colui che conosce, conosce sia la mente sia gli oggetti dei sensi per quello che sono. Dobbiamo utilizzare sati per tenere costantemente pulita la mente. Tutti hanno sati, perfino un gatto quando sta per catturare un topo, un cane quando abbaia la gente. È una forma di sati, ma non è sati in coerenza con il Dhamma. Tutti hanno sati, ma ve ne sono diversi livelli, proprio come si possono guardare le cose a diversi livelli. Quando ad esempio dico di contemplare il corpo, alcuni affermano che c'è da contemplare nel corpo, tutti possono vederlo. Kesha, i capelli, possiamo già vederli. Loma, i peli, possiamo già vederli. Capelli, peli, unghie, denti e pelle, tutte cose che possiamo già vedere. E allora? La gente è fatta così. Può vedere bene il corpo, ma alla vista difettosa non vede mediante buddho, colui che conosce il risvegliato. Vede il corpo solo nel modo ordinario, lo vede visivamente. Vedere semplicemente il corpo non è abbastanza. Se vediamo solamente il corpo, ci sono problemi. Dovete vedere il corpo nel corpo. Allora le cose diventano molto più chiare. Solo vedendo il corpo ne sarete ingannati, affascinati dalla sua apparenza. Se non si vede la transitorietà, l'imperfezione e l'insostanzialità, sorge kamachanda. Nota a piedipagina. Kamachanda, desiderio sensoriale, uno dei cinque impedimenti o ostacoli nivarana per il progresso spirituale. Siete incantati dalle forme, dai suoni, dagli odori, dai sapori e dalle sensazioni. Vedere in questo modo significa vedere con gli occhi mondani della carne che vi inducono ad amare e odiare e a discriminare tra sensazioni piacevoli e spiacevoli. Il Buddha insegnò che questo non è sufficiente. Dovete vedere con gli occhi della mente. Vedere il corpo all'interno del corpo. Se davvero guardate dentro al corpo, è così repellente. In esso ci sono cose di oggi e cose di ieri, tutte mischiate insieme. Non si possono distinguere l'una dall'altra. Vedendo in questo modo è tutto molto più chiaro di quello che si vede con l'occhio della carne. Contemplate. Vedete con l'occhio della mente, con l'occhio della saggezza. La gente capisce diversamente. Alcuni non comprendono cosa ci sia da contemplare nelle cinque meditazioni su capelli, peli, unghie, denti e pelle. Dicono che queste cose già riescono a vederle, ma possono vederle solo con l'occhio della carne, con questo folle occhio che guarda solo le cose che vuole vedere. Per vedere il corpo nel corpo dovete guardare con maggiore chiarezza. Questa è la pratica che può sradicare l'attaccamento ai cinque kanda. Nota a piedipagina. Kanda aggregato, insieme di elementi col quale ci si identifica le componenti fisiche e mentali della personalità e dell'esperienza sensoriale in generale. Sradicare l'attaccamento è sradicare la sofferenza, perché l'attaccamento ai cinque kanda è la causa della sofferenza. Se sorge la sofferenza è qui che sorge. Non è che i cinque kanda di per sé siano sofferenza, ma l'attaccamento a essi come se ci appartenessero. Quella è la sofferenza. Se vedete con chiarezza la verità di queste cose per mezzo della pratica di meditazione, allora la sofferenza si allenta come una vite o un bullone. Quando il bullone si allenta si ritrae. La mente si allenta nello stesso modo, lasciando andare, ritirandosi dall'ossessione per il bene e per il male, per i possessi, per l'apprezzamento e per la posizione sociale, per la felicità e per la sofferenza. Non conoscendo la verità di queste cose è come stringere la vite in continuazione. Si serra sempre più fino a quando, mentre sta per stritolarvi, soffrite per qualsiasi cosa. Quando sapete come stanno le cose, allentate la vite. Nel linguaggio del Dhamma questo si chiama nibidà, disincanto. diventate stanchi delle cose, non vi affascinano più. Se svitate in questo modo, troverete la pace. La causa della sofferenza è l'attaccamento alle cose. Dovremmo perciò sbarazzarci della causa, tagliare via le sue radici e non consentire di nuovo all'attaccamento di causare sofferenza. La gente ha un solo problema, quello dell'attaccamento. In ragione di questa sola cosa, le persone si uccidono a vicenda. Tutti i problemi, siano essi individuali, familiari o sociali, sorgono da quest'unica radice. Nessuno vince, si uccidono l'un l'altro, ma alla fine nessuno ottiene nulla. È privo di senso. Non so perché la gente continui a uccidersi a vicenda. Potere, possessi, posizione sociale, lode, felicità e sofferenza. Questi sono damma mondani. Questi damma mondani fagocitano gli esseri mondani. Gli esseri mondani sono trascinati qui e là dai damma mondani. Guadagno e perdita, lode e biasimo, posizione sociale e perdita di essa, felicità e sofferenza. Questi damma generano problemi. Se non riflettete sulla loro vera natura, soffrirete. La gente arriva a uccidere per la ricchezza, la posizione sociale o il potere. Perché? Perché prendono tutto questo troppo seriamente. Vengono scelti per un qualche ruolo e si montano la testa come quell'uomo che divenne il capo del villaggio. Dopo la sua nomina, il potere lo ubriacò. Se uno dei suoi vecchi amici andava a trovarlo, diceva, non venire così spesso. Le cose non sono più come prima. Il Buddha ci insegnò a comprendere la natura dei possessi, della posizione sociale, della lode e della felicità. Prendete queste cose quando arrivano, ma lasciate che siano quello che sono. Non permettete che vi diano alla testa. Se non comprendete davvero queste cose, sarete ingannati dal vostro potere, dai vostri figli e parenti, da qualsiasi cosa. Se le comprendete con chiarezza, saprete che sono tutte condizioni impermanenti. Se vi attaccate a esse, si contaminano. Tutte queste cose sorgono in seguito. Appena le persone nascono, sono solamente Nama e Rupa. Questo è tutto. Nota a piedi pagina. Nama, fenomeno mentale. Rupa, fenomeno fisico, dato sensoriale. Poi aggiungiamo il signor Tizio, la signora Caio e così via. Lo si fa in base a convenzioni. Più tardi ancora arrivano le appendici di colonnello, generale e quant'altro. Se non comprendiamo davvero queste cose, pensiamo che siano reali e le portiamo con noi ovunque. Portiamo con noi nome, possessi, posizione e rango sociale. Te la suoni e te la canti. Se hai potere, prendi questo e giustizialo. Prendi quell'altro e mettilo in carcere. Il rango sociale dà potere. L'attaccamento s'aggrappa a questa parola. Rango. Non appena le persone occupano una posizione, iniziano a dare ordini. Giusto o sbagliato che sia, regolano i loro comportamenti in base al loro umore. Così vanno avanti e fanno sempre gli stessi vecchi errori, allontanandosi sempre più dal vero sentiero. Chi comprende il Dham non si comporterà in questo modo. Non si sa da quanto tempo bene e male esistano nel mondo. Se possessi e condizione sociale si presentano sul vostro cammino, lasciate che siano semplicemente possessi e condizione sociale. Non identificatevi con essi. Utilizzateli solo per adempiere ai vostri obblighi. Limitatevi a questo. Voi restate gli stessi di sempre. Se avete meditato in questo modo, non importa cosa si presenterà sul vostro cammino, non sarete condotti fuori strada. resterete imperturbati, ininfluenzabili e costanti. Dopotutto ogni cosa resta praticamente la stessa. Il Buddha voleva che comprendessimo le cose in questo modo. Non conta ciò che ottenete, la mente non aggiunge nulla. Vi nominano consigliere comunale. Bene, sono un consigliere comunale, ma non lo sono. Vi nominano a capo di un gruppo. Certo che lo sono, ma non lo sono. Qualsiasi cosa vi facciano diventare, lo sono, ma non lo sono. Comunque, che cos'è che siamo in fin dei conti? Alla fine si muore tutti. Non importa cosa vi facciano diventare, alla fine è sempre la stessa cosa. Cosa potete dire? Se riuscite a vedere le cose in questo modo, avrete salda dimora e vero appagamento. Non sarà cambiato nulla. Non fatevi ingannare dalle cose. Qualsiasi cosa si presenti sul vostro cammino si tratta solo di fenomeni condizionati. Non c'è niente che riesca meglio di queste cose a indurre una mente a creare, a proliferare, seducendola e facendola cadere nell'avidità, nell'avversione e nell'illusione. Questo significa essere veri sostenitori del buddismo. Sia che vi troviate fra coloro che sono sostenuti il sanga o tra coloro che lo sostengono i laici, prendete accuratamente in considerazione tutto questo. Coltivate il Sila Dhamma dentro di voi. Nota a piedi pagina. Sila Dhamma, un altro modo per indicare gli insegnamenti morali del buddismo. È il modo più sicuro per sostenere il buddismo. Anche sostenere il buddismo offrendo cibo, ricovero e medicina è bene, ma queste offerte raggiungono solo l'alburno del buddismo. Non dimenticatelo per favore. Un albero ha corteccia, alburno e durame. E queste tre parti sono interdipendenti. Il durame deve poter fare affidamento sulla corteccia e sull'alburno. L'alburno fa affidamento sulla corteccia e sul durame. Esistono tutti in modo interdipendente, proprio come gli insegnamenti di disciplina morale, Sila, concentrazione, Samadhi e saggezza, Pagna. L'insegnamento sulla disciplina morale serve a fondare le vostre parole e azioni nella rettitudine. L'insegnamento sulla concentrazione serve a dare stabilità alla mente. L'insegnamento sulla saggezza è la completa comprensione della natura di tutti i fenomeni condizionati. Studiate questo, praticate questo e comprenderete il buddismo nel modo più profondo. Se queste cose non le capite sarete ingannati dai possessi, sarete ingannati dal rango sociale, sarete ingannati da tutto ciò con cui giungete in contatto. Sostenere il buddismo solo in modo esteriore non porrà mai fine a lotte e battibecchi, a rancori e animosità, ad accoltellamenti e sparatorie. Per far cessare queste cose dobbiamo riflettere sulla natura dei possessi, del rango, della lode, della felicità e della sofferenza. Dobbiamo riflettere sulla nostra vita e metterla in linea con l'insegnamento. Dovremmo riflettere sul fatto che tutti gli esseri del mondo fanno parte di un tutt'uno. Noi siamo come loro, loro sono come noi, hanno felicità e tristezza proprio come noi. È tutto molto simile. Se pensiamo in questo modo sorgeranno pace e comprensione. Questo è il fondamento del buddismo.